La perdonanza non è soltanto un evento rituale, è una grazia che viene dall'alto, che passa tramite la Chiesa e raggiunge le persone nella loro interiorità. Così il Cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell'Aquila, ha commentato l'apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Colle Maggio, la soglia simbolica oltrepassando la quale viene concessa l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli sinceramente pentiti. I migliaia sono arrivati all'Aquila per varcare la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Colle Maggio. Da Bergamo per chiedere l'indulgenza plenaria? Perché è uno dei passaggi fondamentali per accedere a quello che i cristiani chiamano il Paradiso. Eravate già stati qui all'Aquila? Sono parecchi anni che veniamo a Colle Maggio, sì. Siamo venuti soltanto per fare una visita, per passare alla Porta Santa e vabbè lei perché... Questo è il decennale del sisma, è un anno importante per l'Aquila. Sì, 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 è un anno importante e siamo contenti perché c'è stata una grande partecipazione di molte persone anche da fuori l'Aquila. Bisognerebbe rivalutare l'aspetto spirituale? Sì, sì. Abbiamo chiesto per noi proprio, per i nostri peccati o peccatucci. Per me è la prima volta, vengo da fuori, quindi... Da dove viene la signora? Ah, io vengo da Cubbio, quindi è stata emozionante veramente. Volevamo entrare ieri sera, però non c'è stato possibile. Però effettivamente è una cosa che ti prende dentro, è una cosa che senti e che la fai perché ci credi. Questi sono dieci anni dal terremoto, avete potuto vedere anche la città? Lo so, abbiamo visto la città, io avevo mamma che era dell'Aquila, quindi per me è stata una ferita grandissima. Un monito da padre Quirino Salomone che sottolinea come il perdono debba avvenire prima di tutto fra gli uomini. Se la riconciliazione voluta da Papa Celestino è quella tra gli umani, la cosa va perché non era prima il perdono di Dio e poi vediamo se possiamo fare tra di noi. Era prima il perdono tra di noi. E intanto c'è attesa sul risponso del Comitato Unesco che a Bocotà a dicembre deciderà se anche la perdonanza celestiniana, primo giubileo della storia cristiana, entrerà a far parte della lista rappresentativa dei beni immateriali dell'umanità.